Non siamo studenti, ma siete dei violenti! Non siamo studenti, ma siete dei violenti! Ma avete caricato? Siete penuti? Siete penuti? Ma quattro anni? Siete penuti? Ma poi la sentenza è comunque un po' di queste cose ancora! Ma fatevi delle domande! 15 anni, appena compiuti! Sei al liceo? Sono al liceo, seconda e superiore, tenka! Ma lei è arrivata nel manganellare? Io sono arrivata nel manganellare, mi hanno preso qua, sul nervo, non mi hanno fatto tanto male, ma non mi importa! Noi non mi possono chiudere là dentro e decidere allora che io devo rimanere là dentro a prendere le manganellate! Non ho il diritto di fare queste cose! Io ero lì semplicemente per cercare di ritelare i ragazzi delle scuole superiori, un ragazzo di 14 anni è stato colmenato! Non mi hanno toccata però perché mi sono presentato subito, sono una sindacalista, se mi mette le mani addosso ci vediamo in tribunale! E lei a me il nome e cognome me lo dà, allora non mi hanno caricata! Però una ragazza è stata presa per capelli e trascinata a cuore! Ma la polizia è arrivata da fuori? Sì, nei laterali! Quindi prima non c'era nessuna! Quando avevano visto questi studenti sono entrati lateralmente, hanno fatto entrare questo copitino e era già dentro! E loro hanno approfittato per chiuderli! Ma dentro al cortile o dentro all'Andi? No, 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 prima era aperto quel portone grande! Sì, 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 l'ho visto! Era chiuso solo con l'interno! Certo, in quei 5 metri c'erano più di 30 poliziotti a caricare gli studenti! Oggi qua all'Arcivescovado presentavano la buona scuola, noi oggi volevamo entrare qui dentro a dire che la buona scuola siamo noi, gli studenti che vivono la scuola tutti i giorni siamo noi e quindi siamo noi che dobbiamo parlare delle riforme che vogliamo nella nostra scuola se le vogliamo! E non ci devono essere imposte dall'alto! Quello che è successo è che siamo usciti dall'Assemblea Statale, siamo venuti qua per presentare la nostra buona scuola fuori da questo palazzo con uno spettacolo teatrale, abbiamo provato a entrare e pacificamente, così come ci vedete, ha volto scoperto e quello che è successo è che la polizia è entrata con i caschi blu e i celerini sono entrati e hanno manganellato tutti i studenti sostanzialmente chiudendoci in un angolo ma con una violenza assurda!